Prima di cominciare ti invito a scaricare OneFootball, quella che è il mio modo di vedere, è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news, sempre. John Bordo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi video delle 21.30, in giornata si è praticamente chiusa la trattativa che porterebbe Hamed, si chiama Hamed, spero di capire Hamed, aspetta, si chiama Hamed Junior Traore alla Juventus, se ne è parlato tanto, tra l'altro è il fratello di quell'altro fenomeno dell'Atalanta, se non vado errato, di cui vi ho parlato in un video poco tempo fa, ragazzi Hamed Traore diventa un nuovo giocatore della Juventus. Che giocatore è però? Innanzitutto una cosa importante, è un giocatore molto tecnico e molto intelligente, è un giocatore che lavora tanto 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 di testa ed è molto giovane, è un 2000 che quest'anno ha fatto le fortune dell'Empoli e che insieme a giocatori quali Zaic fino a gennaio, Di Lorenzo come terzino e Caputo con lui, diciamo anche un po' Dragoschi da gennaio in poi, hanno rischiato di salvare l'Empoli e hanno formato la spina dorsale della squadra. Era praticamente fatta alla Fiorentina, a gennaio avevano chiuso, avevano l'accordo, avevano il contratto firmato da quanto ho capito, ma la Fiorentina non è andata a depositarlo in Lega e se tu non depositi il contratto in Lega te lo puoi anche dare in faccia, ma non ha valore, ok? Non ha valore giuridico quando al momento in cui chiude il mercato e bla 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 bla. Questo è trapelato, ovviamente su questo non ho fonti, quindi non vi posso dire è così, non è così, perché non lo so ma questo è uscito fuori. Quanto spende la Juventus per Traore? Spende 15 milioni di euro, una spesa lecita, una spesa giusta da fare e una spesa molto molto intelligente per un giocatore con classe 2000 che ha fatto 32 partite su 38 e sono tantissime, specialmente se pensiamo che è un 2000 e che le ha fatte nel paese dove non ti lanciano mai se sei giovane. O arrivi già pronto oppure te le dai in fronte le tue possibilità, ok? E invece le ha riuscite a ritagliarsi comunque uno spazio enorme. Un giocatore molto molto propositivo che gioca molto in avanti, testa alte giocare in avanti, che si inserisce tanto bene, quest'anno ha fatto pochi gol e pochi assist, se non vado errato dovrebbe aver fatto i 2 e 2, ma potrei sbagliarmi, potrei sbagliare di qualcosa, potrebbe essere arrivato a 4 e sinceramente mi sfugge, però mi sembra 2 e 2, però che comunque se viene molto propositivo negli inserimenti, se gli viene dato il pallone giusto e il pallone buono, te lo butta dentro, ha una buonissima visione di gioco, quindi da centrocampista spesso alza la testa e riesce a servire il compagno in profondità, ma anche perché è un giocatore parecchio duttile, più offensivo che difensivo, quindi non vi aspettate che magari in un futuro possa magari dare una mano in fase difensiva, perché tra le due cose lui, ok, è una mezzala di ruolo, però può giocare trequartista, può giocare alla destra, insomma tutti i ruoli che lo accostano alla parte offensiva della squadra piuttosto che a quella difensiva. È un giocatore molto fisico, perché comunque è alto 1,84 m, quindi insomma non è che sia poi così bassino, anzi, e poi ha un po' il fisico medio degli ivoriani che vediamo giocare a calcio, quindi insomma abbastanza fisicato, ora non è che voglia prendere gli ivoriani e dire che sono tutti fisicati, però quelli che giocare a calcio molto spesso li vedono proprio con un prototipo di fisico, con un tipo di fisico più o meno simile. È un giocatore che difficilmente rimarrà a Torino, perché con tutta probabilità poi andrà al Cagliari o al Sassuolo, si parla più di Cagliari, tra l'altro si parla di un interessamento della Juventus per Niccolò Barella, quindi questo voglio un attimo valutarlo, perché poi fino a ieri si parlava di Barella all'Inter praticamente fatta, poi si è parlato di Barella al Milan, poi Barella che è la Roma interessa da Barella, quindi ogni giorno qui ne esce una, anche il Napoli interessato eccetera, comunque la Juventus avrebbe la carta e la carta si chiamerebbe Traoré, perché pare che il Cagliari sia molto molto interessato a Traoré. La Juventus vorrebbe, ovviamente lo dà come scambio, ok? Lo dà in scambio, glielo presta e la pezza da mettere a centro campo. Ovviamente se non riuscissero a prendere Barella, io penso che la Juventus guarderebbe un pochino più dall'altra parte, un po' più su, guarderebbe verso Reggio Emilia e direbbe sai che c'è lo presto al Sassuolo, perché anche il Sassuolo è interessato, è una piazza dove si lavora bene, è una piazza dove i due giocatori possono crescere con tranquillità e poi De Zerbia, uno che è il calcio, te lo sa insegnare, lo ha dimostrato quest'anno insomma. Detto questo, voi che cosa ne pensate di questo acquisto? Io voglio dare un bel 7, perché la Juventus per me ci ha visto veramente lungo, volevo fare i complimenti alla Fiorentina, avrei dato 8, perché la Fiorentina è una squadra che difficilmente Cepiaco, cioè nel senso 15 milioni invece di un giovane non lo fa mai, avrei dato addirittura 8, la Juventus 7 perché comunque è la Juventus, quindi parti più in alto, la Fiorentina avrebbe potuto tranquillamente fare il titolare, qualora dovesse partire come dicono, vedi tu, e invece va alla Juventus. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto per il Fanta Calcio, ovviamente è inutile che ve lo dico perché qualora dovesse andare al Cagliari poi ne parleremo, vi dirò per il Fanta, perché adesso al Fanta la Juventus ragazzi non vedrebbe mai il campo, però quasi il 99% non rimarrà la Juventus. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, versace un altro litro. Ragazzi avete visto questo video, buon ce lalala, seguitemi su Instagram, simonesicco, alfatrattino basso official, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video!